3, 2, 1, ciak! Ciao a tutti, sono la Carla e questo è il mio canale! Ciao! Si vergogna tantissimo, me la presento? Dici! Dici? Dici! Lei è Federica? Ciao! Bravo! E niente, non siamo impazzite, cioè non abbiamo questo trucco, perché siamo delle cartine, ma come avevo detto già, ma ve lo sapete ormai, che siamo andati ad una festa e poi ho truccato lei e un altro... Fatti vedere per il fame! Solo che si vergogna... No, dai! Si vergogna, posso vedere, però comunque dopo vi faccio vedere il trucco che vi ho fatto, perché è stupendo! Un carnazo! Un carnazo? Non è vero, perché è uguale, identico... Identico! È identico! Identico a quello di The Vampire Diaries, cioè spiaccicato, e quindi è fantastico! E niente, facciamoci vedere! Allora, io ho il trucco... Io ho il trucco di cui ho fatto il Get Ready With Me, mi lascio il link da queste parti qui, vabbè... E niente, indosso un semplice tubino nero, niente di che proprio, mi sto ammazzando, poi ho questo orecchino, soltanto uno, perché di qua non si vede niente, e... I stivali, perché non avevo proprio voglia di mettere i tacchi, primo, e secondo, perché tra un po' sta venendo la grandine, e quindi... Stanno bene, dai! Sì, sto bene! Allora, grazie! Ehm... 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 E sto venendo giù la grandine, quindi non sapremo bene come faremo. Lei, invece? Parla, dai, mi parla un po' tu. Ehm... No, alla fine, non ce lo faccio. Allora, indosso un vestitino floreale, floreale, con la mia cintura, bellissima, con i miei orecchini, e col trucco fatto da Carla, Miss Carla Pink, che stupido, che bella! Oh, parli a vedere avvicinati al trucco. Non ci credo che lo facciano! Questa si vede malissimo, perché c'è una luce stupida nella mia camera, e cosa possiamo dire ancora? Io qua ho la solita ferramente. Sì, non lo voglio togliere. Infame hai tolto il mio bracciale! Eh, te lo lasciate per me diventare a busto tu! Ok. Aveva anche lei questo bracciale a metro. Eccolo! Wow! Comodo! Mi ha ideato dalla mia mente! Copia? Sì! Copia! Copia di me, sì! Copiatissimo! Vi faccio adesso vedere il trucco del mio amico. Dai, Simo! No! No! Bam! Sì! Dai! Poi la faccia intelligente, però! Yeah! Mi va la ganja! No, mi siete un cretino! No, ditemi se non è bellissimo come trucco! No! Dai, The Vampire Diaries! Uguale! E, boh, adesso non so cosa sto riprendendo! Vieni qua allo specchio, Fede! Ciao! Ciao! Al prossimo video! Hai parlato molto, Fede! Sì, ho anche qualcosa nei denti! Questo trucco, credo che fine serata avremo meno di zero! Ah, devo portare i sabbietti struccati! Brava! Mi sa che a me la serata ci struccheremo di tutto! Comunque, boh, basta! Ciao! Ciao! 3, 2, 1, ciao! Ciao a tutti! Ciao! Oh, scusa! Oh, scusa! Ciao! Ciao!